oggi un video succosissimo con le ultime novità di neve cosmetic andiamo a realizzare insieme una full face con tanti prodottini inizio subito con il fondotinta siero quindi parliamo di mecca care agitiamo bene il prodotto metto un po sul dorso della mia mano e questa è la tonalità light neutral per i sottotoni neutri lo puoi applicare con le dita con un pennello io utilizzerò una blender umida la texture è cremosa tra l'altro ha una gradevole profumazione che non guasta è formulato con anguria lenticchia e mela quindi adatto anche per i vegani infatti mi dà subito quella freschezza lo consiglio a tutte quelle persone che hanno bisogno di una coccola soprattutto adesso con il caldo quindi è leggero ma poi stratificarlo aggiungerò ancora un po qualora avesse delle discromie il consiglio è di applicare sotto un correttore ha un finish luminoso lo preferisco si stende molto bene direi con estrema facilità si assorbe subito l'effetto è pelle rimpolpata mi piace tanto devo dire che la pelle me la sento confortata e l'effetto rimpolpante lo vedo e anche quell'effetto glow che mi piace non è effetto unto non confondiamoci sento anche al tatto la pelle molto morbida non so cosa ne pensate fatemelo sapere nei commenti se sentite un rumore è perché acceso il ventilatore ragazze si muore dal caldo fra un po il baffetto malefico si farà vivo per il contorno occhi vado utilizzare bella sveglia sempre di neve cosmetic è un contorno occhi colorato quindi ci aiuta perché anche un primer è arricchito con acido ialuronico quindi abbiamo un'azione idratante anti age antiossidante perché all'interno abbiamo la vitamina e il burro di karité l'estratto di chlorella che va a drenare la nostra borsa è veramente completo pennello da correttore e iniziamo io ne ho messo un po sul dorso della mano a picchiettare il prodotto laddove ho l'occhiaia se lo mettete in frigor ha anche un effetto rinfrescante a volte vedo persone che mettono la qualsiasi sull'occhiaia e quando ti avvicini vedete è molto naturale ho corretto le mie occhiaie e adesso applicherò questa cialdina colore california guardate che meraviglia chiusura magnetica ma udite 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 non è solo un bronzer lo puoi utilizzare anche come ombretto la texture è vellutata è un rosa biscotto quindi se ha il problema dell'occhio incappucciato o di una palpebra cadente questa è la tua soluzione perché andrà a sgonfiare e ti aprirà lo sguardo il colore com'è è molto pigmentato quell'effetto baciata dal sole utilizzerò un pochino anche come transizione è un colore passepartout molto bello molto fine si sfuma veramente bene quindi la facilità di questo prodotto multiuso è veramente doc direi poi ci aspetta questa meraviglia date che colore non fa subito vacanza ideale per l'estate puoi creare uno smucchi puoi utilizzarlo nella rima interna come liner tanti utilizzi ho creato la mia struttura e adesso entra in azione il pastello lo applico nella rima interna morbidissimo questo pastello e adesso un prodotto che è andato virale ecstasy magic vedete trasparente ma con il ph della pelle si colora lo puoi applicare su guancia e su labbra tra l'altro anche devo le profumazione ma è morbidissimo e facilissimo da utilizzare e che bel rosa poi si stende con facilità e non fa macchia lo metto anche un po sul nasino comodo perché piccolo puoi portartelo sempre con te ci piace utilizziamolo anche sulle labbra ti lascia le labbra morbidissime poi mi piace perché non è affatto appiccicaticcio io detesto quando si impasta adoro questo makeup firmato neve cosmetic non so cosa ne pensate aspetto i vostri commenti ma questi nuovi prodotti sono favolosi soprattutto il fondotinta mi è piaciuto tantissimo e se non l'avete provatelo perché per l'estate è l'ideale texture leggera effetto naturale fresco con all'interno l'anguria ti sembra di non indossare nulla praticamente poi mi è piaciuto molto il contorno occhi perché abbiamo due azioni sia quella del contorno occhi anti age che va a nutrire il nostro contorno occhi a drenare ma poi anche l'azione del primer quindi eccezionale se non l'avete anche questo ve lo suggerisco la chicca applichi sulle guance come rossetto anche la cialdina color california da utilizzare come terra ma anche come ombretto non dimentichiamoci del nostro pastello guardate che meraviglia che con la bronzatura spacca siamo arrivati alla fine trovate anche su instagram su tiktok e se non siete iscritti al canale iscrivetevi al canale se vi è piaciuto questo video pollicione in su e attiva la campanella ciao da nives e alla prossima